No, 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 la macchina di Rame mi serviva l'audio invece è un po' c'è Ma poi sono così oscurato in termina da una mia azienda, sembra di star il buio Poi questa cosa mi mancava dal GGT6, mi b... cosa del semafo Superdome ha fatto una patenza pattinando come non so cosa e adesso si ritrova in lotta con Skrink che trova l'esterno del tour in questa curva senza riuscirci Infatti perde anche la posizione nei confronti di Akerman mentre Renato e Alessio fanno la loro bagarre per la prima posizione Renato prova l'interno, proprio se all'ultimo decide di attaccare ma non ci riesce Morrendo con la Polo Rosso Si è preso pure una penalità di 0,40 secondi Il giro l'altro Grazie No, 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 no Eh, attenzione Renato, parte il culo dalla macchina Oddio Lennonca Attenzione nel tentativo di rientrare in pista sfiora la fiancata di Superdome e deve difendersi anche da Ackermain che prova l'interno e lo prende Però attenzione la sua macchina decide di pattinare su chiaccia E attenzione L'abbiamo taglito a mantenere ai libri Lada dietro, gara molto accesa Mentre Alessio ne approfitta per scappare FAI CAZZO Si è già preso 2 secondi e 6 Superdome da lui Mentre ladietro la situazione è ancora accesa Infatti Superdome ha approfittato la sua volta per scappare UPA carte con le due io colpismo dai francia di merda muoviti cazzo aspetta una volta la macchina uno di noi deve morire ai al braccio cristo anche qualcun altro oh cazzo il telecronista si è spaccato un braccio ma te non hai visto una roba uno a tre attenzione supertanto due volte che penalti vabbè che penalti tu non ti preoccupai mokko cazzo qu'è successo? 5 secondi problema Ho da notare che lui dice questo è il penalty, no non è il penalty non ti preoccupare, 5 secondi Non l'avessi mai detto Avevo notato che avevo tagliato troppo la forno Si ma 5 secondi non è che hai guadagnato 5 secondi, quanti ne guadagnai? Mezzo secondo appena Devo togliere perché non so perché ce l'ho pagatissimo Poi non si possa neanche smaltire Ma non ho capito che faremo il cuore E si prende altri 9 decimi così a random E si gira pure, tanto per infierire su questa gara Pione? Tanto per infierire ancora di più su questa gara La davanti, la davanti Attenzione Renato si è girato anche lui Era molto accesa qua dietro Mentre Alessio ormai ha deciso di fare il reset della situazione Ed è partito via Dai, il visuale interna 5 secondi di perità che diventano 6 perché è rotondo a questo gioco Dai, ti voglio fare la vernice questa volta No, non ce la faccio Ehm... Superdome deve cercare di riparare tutto ciò che ha distrutto finora Vabbè arrivavamo dietro, arrivavamo dietro Ma fare le gare così accoppiati però non va bene eh Attenzione lì c'è un accoppiamento fra due macchine Huckermind e Skrick Stanno facendo la gara completamente uno a fianco all'altro Stavolta Skrick si è messo davanti Attenzione Skrick è leggermente largo però rientra in traiettoria Rientra in traiettoria mentre Huckermind Sta comunque appiccicato al culo Ma anche lui un po' largo Fuori pista pure Mentre Domi si è avvicinato ad Huckermind Prende tutta la scia Vedi il buco all'interno Si infila Attenzione Vuota ruota Staccata Vabbè Eh 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 Allora Ragazzi il telecronista non vuole doppi sensi eh Quindi Allora Fate finta che Fate finta che è un buco immaginario Allora Diceva Huckermind Grazie all'incrocio di traiettori Si è ripreso la terza posizione Mentre Super Domi all'interno stavolta non frega Huckermind va pure fuori pista Perdendo la posizione Non gira a fare la prima E adesso Super Domi si ritrova in terza posizione Vabbè Virtualmente quarto Virtualmente quarto Vinto Però In pista è terzo Ah ma ecco perché non riesco a girare C'è le Pirelli C'è le Pirelli Grazie Domi E Huckermind D'attenzione prende tutta la scia Si affianca Super Domi Stavolta prova l'esterno Staccata incredibile E Super Domi tira pure una Una affiancata Per riprendersi la posizione Lo sfermi Anche il tuo Martini Io Eineken Facciamo il nuovo Poxel E poi manca la Peroni Di Franci Che non può mai mancare Quella sul podio E un pizzico di Pirelli E un pizzico di Pirelli Un pizzico di Pirelli Anche ma è l'archissimo Ho sbagliato la staccata Ha frenato completamente fuori tempo Andiamo a riprendere i francesi Allora io vi consiglio di passarmi a destra Così ho la bandiera americana A sinistra gioca la francese Decidi Domi Vuoi passarla all'americana O alla francese Cosa cambia Scusate E perché di mangiare le lumache Ah no E gli americani mettono il ketchup sulla pizza Ah no E anche sulla pasta Mettiamo più uno con il lava side by side E l'altro Quindi decidi tu Decidi tu Allora decidi tu Baguette e lumache O ketchup sulla pizza e sulla pasta Ma io il ketchup Dove le lumache Ma la Ma sei strancio Dove c'è la bandiera americana Stasera di maggio A destra Sì a destra Ho sette marce completamente inutili Dove mi ha malapena mettere la sesta Vedi tu No io l'avevo la settima Adesso La lotta si fa più accisa La dietro Si sta avvicinando La script Dietro la situazione Sembra comunque accesa Tra Renato e Hunkermain Hunkermain però si ritrova in ultimo Così no lo so Dalla minima E' attenzione Due secondi e otto Di penalità per script Cinque secondi e nove Che diventano sei Per super dubbio Sperando che diventino tre Anche per scritti Si diventano tre Arrodondano 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 in generale Per il se c'è 1,090 Di modo più voglio E' esagerato E' esagerato dai Cazzo Dovrebbero fare sopra L'1,500 501 A parte Il due secondi Anzi Se vogliamo più essere corretti Aggiungere Quello che hai scritto Esatto Sperdome si è avvicinato Prova Si fa vedere Nei specchietti Prova l'attacco Stavolta era troppo lontano Adesso ci prove il rettilineo Prendendo tutta la scia Di Dietro abbiamo tutti la pianeta Che bello Secondo me anche adesso Ce l'ha piccola Ma ce l'ha Oh ma quanto mi bevi il rettilineo Ti prendi l'està Non resta si trova in cor Però si sta avvicinando La Porsche si sta avvicinando La Porsche si sta avvicinando Attenzione Può provare l'attacco Eee Attenzione Qua è stato un errore di script Qua è stato un errore di script No perché io l'ho già spostato prima Eh ma durante la frenata E' stato un cambio di inizio Viene io mi stavo già spostando Scordami Vabbè La colpa nel dubbio è di Di hacker Ma il dubbio è di hacker Difatti Renato ha prodotto Per 7 secondi Und�� Un morgo Non si è Un'altra Ma non lo so Che c'è neanche a fare Cura No perché io me l'ho già spostato da destra Tu mi ce l'ho già sentito Allora dove cazzo vado No, comunque dalla visuale di Superdome mi sembra colpa di Scree, poi non lo so No, io mi stavo spostando dentro e mi sono spostati in un po' tazzo Vabbè ragazzi, questo sembra più Best Happen e Ricciardo Abbati, quella stessa cosa Eh ma io ho fatto una volta, allora le hanno fatte due, di spostamenti Best Happen si è spostato due o tre volte Ecco Giù 10 secondi per Renato No, no Eh si gira, si gira, si gira, Superdome Cioè no che si gira, va fuori pista Ho fatto un po' di verbi cross Ho fatto il Joker in lato Niente Alessio domina, domina la gara Ha dominato Alessio, è partito primo, è stato visto solo nei primi 2000 metri della pista Poi non si è visto più Però c'è una cosa che mi manca, ed era di Gran Turismo 5 Ho fatto il Obby Sìììììììììììììììììììììììììììììììì поэтомуìn ahrenimo Giù Con quelli Reddici Secondi Credo che cazzo è � infinitolo Penno che cazzo è combinato... Joh Qua vince... Qua vici